Ciao ragazzi, sono Daniel, lavoro con TDCX come InsideSense representative e oggi vi parlo per lavorare con noi nel remote working come customer support specialist e oggi vi spiegherò, vi parlerò soprattutto della compagnia, di come si lavora e del lavoro in proprio in cosa consiste. Prima cosa TDCX vi fornerà tutto necessario per i treni, per tutte le maggiori che bisogna svolgere a casa, tutto questo funzionario oltre alla media. Tutti i benefici relativi del lavorare da casa, risparmi di tempo e flessibilità sul lavoro avario. Inoltre avete possibilità di accedere a molti percorsi lavorativi, vi è sicuro che qui TDCX dopo tutto interno mancano, ovviamente bisogna aspettarli anche. Come lavoro sarete inseriti nel team Europa, vi confronterete con un cliente di tutto il mondo, offrendo veramente la migliore esperienza possibile, requisiti minimi, manda l'invito italiana e un minimo di people in classica. Partecipate adesso, uniate alla candidatura e spero di vederli presto in locali partiti.